Rossi, doppietta assist, partita perfetta oggi. Sì, buonasera innanzitutto. Oggi devo dire che la squadra è stata sempre sveglia, abbiamo preso quasi tutte le seconde palle, quindi oggi abbiamo vinto da squadra. Quella è la cosa importante, che siamo tornati tutti insieme, tutti uniti e stavamo anche meglio fisicamente e abbiamo preparato bene, quindi devo dire ottima partita. Sì, è vero, abbiamo rivisto il Montagnola che abbiamo visto per la maggior parte della stagione scorsa, vi siete svegliati forse un po' troppo tardi. Sì, devo dire che abbiamo questo piccolo rimorso della prima parte di campionato, però io credo che se continuiamo a giocare così potremo fare una buona seconda parte di campionato, perché oggi veramente ho visto una bella squadra compatta, unita e con la voglia di andare a vincere. Grazie mille Rossi, alla prossima. Grazie, buona serata.